Quali sono le ripercussioni e quali i rischi che corre Roma Capitale dopo il tentativo secessionista di Bossi? Mi ha sorpreso che fino ad ora a Roma non ci siano state non reazioni alla secessione, ma approfondimenti del significato che la nascita di uno Stato federale in Italia può comportare per la città di Roma come capitale di uno Stato federale. Mi auguro che si discuta seriamente, perché trasferire, non so, ministeri importanti come pubblica istruzione, lavoro, fisco, ordine pubblico, alle regioni, significa per Roma porre un problema anche di lavoro e di occupazione molto serio. Certamente il problema di Roma Capitale non si iscrive nella questione del secessionismo, perché se così fosse il problema di Roma Capitale nascerebbe morto, almeno nella nostra ottica. Noi possiamo valutare le nuove forme che può assumere il ruolo di Roma Capitale nello Stato nazionale italiano all'interno della problematica delle riforme istituzionali e costituzionali che la Commissione bicamerale si accinge ad affrontare. Questi autorevoli pareri li abbiamo raccolti oggi al Campidoglio, dove è stato presentato il volume Roma Capitale della Nuova Repubblica. Il libro, con la presentazione del sindaco Rutelli, raccoglie i risultati di un'ampia ricerca su Roma, articolandosi in tre piani di indagine, quello storico, in cui si ricostruisce la nozione di Capitale, quello relativo all'assetto attuale di Roma ed infine il piano relativo al futuro della Capitale.